Abbracci e saluti ai figli dei dipendenti del Programma Alimentare Mondiale e poi un breve discorso a braccio. Così si è conclusa la prima visita di un pontefice, la sede romana della più importante agenzia umanitaria mondiale, che si occupa di lotta alla fame. Consegnando il discorso scritto preparato in spagnolo, Papa Francesco ha voluto ringraziare quelli che fanno il lavoro nascosto, che non si vede ma che rende possibile che tutto vada avanti. Anche voi, come i vostri testimoni che sono caduti in servizio, ha aggiunto, Avete coraggio di aiutare dietro le quinte e sostenere il coraggio dei vostri martiri. Di fuori nessuno sa come vi chiamate, ma i vostri nomi fanno possibile questo grande lavoro, questo grande lavoro della lotta contro la fame. Grazie a un piccolo lavoro, a un piccolo sacrificio, a un nascosto sacrificio vostro, piccolo o grande, tanti bambini possono mangiare, tanta fame viene risolta. Vi ringrazio tanto.